cari amici di visione tv benvenuti al nostro nuovo appuntamento il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi c'è michelangelo severgnini regista documentarista autore anche del libro l'urlo ciao michelangelo francesco un saluto a tutti ecco facciamo vedere la copertina del libro michelangelo severgnini l'urlo schiavi in cambio di petrolio ecco forse tu sei uno dei maggiori esperti della situazione in libia michelangelo in questi giorni è tornato d'attualità il il sistema che è sorto quel paese dopo l'uccisione di gheddafi ad opera delle dei paesi occidentali compresa l'italia c'è chi mette in relazione un incremento diciamo della tratta dei migranti sulle nostre coste con la destabilizzazione di quel paese c'è un rapporto di causa effetto assolutamente c'è un rapporto di causa effetto questa ricerca che ormai conduco da diversi anni proprio dimostra anche con dei documenti ufficiali del cosiddetto governo di tripoli quanto in realtà le milizie che noi pensiamo siano in tripolitania per fermare la migrazione anzi in teoria noi diciamo anche che le paghiamo per quello in realtà sono state proprio loro a moltiplicare i cosiddetti migranti perché attraverso un sistema molto sofisticato di tratta fanno sì che la maggioranza delle persone che si trovano oggi in a tripoli in tripolitania sono vittima di raggiro perché la tratta questo significa non significa che qualcuno si è rivolto alla tratta per essere trafficato no la tratta significa ingannare qualcuno condurlo in un in un determinato punto nella fattispecie a tripoli e lì a renderlo schiavo e lì sottoporlo a tutte le vessazioni al fine di ottenerne soldi di fatto perché la tortura scopo di estorsione appunto compiuta a tripoli è finalizzata all'estorsione dei soldi presso le famiglie di questi ragazzi non è che questi ragazzi chiaramente viaggiano con i soldi in tasca quindi quando sono sottoposti a tortura chiamano le famiglie e chiedono che questi paghino questi soldi allora questa queste milizie che stanno a tripoli in questo 20 per cento di libia ancora fuori controllo di fatto hanno messo in piedi una rete con con le principali mafie subsahariane è questa che induce ragazzi a raggiungere la libia quando si trovano nell'inferno libia ecco che alcuni di loro per sfuggire cercano la traversata verso l'europa comunque come dicevo nel libro l'urlo c'è in particolare un documento ufficiale del governo di tripoli del cosiddetto governo di tripoli in cui si certifica che i fondi inviati dai governi europei a tripoli negli ultimi anni alla voce migranti non sono stati spesi per la questione migranti ma per altre esigenze del governo che verosimilmente sono legati legate ad armi e petrolio quindi questo è una cosa che emerge importante da questo dal mio lavoro ma nel momento in cui noi siamo disposti che la libia ora è un paese pacificato all'ottanta per cento indigestito da legittime autorità da un governo da un parlamento che è stato votato nel 2014 dai libici e poi c'è un 20 per cento di territorio tripoli ed intorni che è occupato dalle milizie dove ci sta un governo a tripoli quello da baiva quello con cui la melone va a firmare contratti che non è illegittimo non ha non riceve la fiducia del parlamento votato dai libici e quindi di fatto a tutti gli effetti un governo coloniale questo è quello che non si riesce a raccontare nell'informazione europea nell'informazione occidentale perché noi crediamo che quello di tripoli sia il governo della triboli della libia quello è di fatto una giunta coloniale che non riceve il parla il voto di fiducia del parlamento che è stato votato dai libici quindi questa tutta una serie di conseguenze chiaramente la migrazione è la prima delle quali che non possono essere in nessun modo come dire modificate se non cambiando quelle che sono le cause a monte e penso che appunto nella nella ricerca dell'urlo tutto questo sia stato ampiamente documentato e raccontato senti michelangelo spesso ci si concentra sugli elementi finali di queste catene che organizzano migrazioni di massa iniziata si piglia con lo scafista col delinquentello con con personaggi evidentemente che fanno parte sono sono anelli finali di una catena però nessuno riflette mai diciamo su sui veri architetti di queste tratte c'è chi li consente chi li permette chi domina quelle tratte del mare quali governi chiudono un occhio o do tutte e due cioè esiste secondo te una centrale formata da insospettabili che tutto sommato consente incoraggia queste la partenza di queste carrette del mare anche per finalità di destabilizzazione politica dei governi ma innanzitutto questi 700 mila migranti ormai da anni in trappola in tripolitania servono lì servono alle milizie perché rappresentano forza lavoro non retribuita quindi sono degli schiavi non solo come raccontavo prima poi sono fonte di reddito costante per la mia per le milizie nel momento in cui vengono sottoposti a tortura a scopo di estorsione però è del tutto evidente che questa questa propaganda soprattutto presente a destra in europa contro l'immigrazione in realtà è insomma come dire appunto per propaganda niente più di quello nel senso che poi alla fine i migranti i migranti schiavi piacciono a molti perché di fatto sono forza lavoro a basso costo quindi per esempio se noi guardiamo all'ultima strage questa di cutro sulle sulle spiagge calabresi noi dobbiamo considerare che questa nave è partita dalla dalla turchia non è partita dalla libia quindi da ma tripoli da un occupata da bande militari o dalla tunisia in preda a una crisi economica drammatica no è partita dalla turchia per un per una giornata intera attraversato a slalom le isole greche e poi alla fine è arrivata fine in italia ora questa è una tratta per esempio dove le ong non sono coinvolte perché partono su navi di legno pescherecci a fine carriera che sono normalmente perfettamente in grado di raggiungere le coste italiane da sole quindi questa è una tratta che ormai va avanti da anni tutti lo sanno lo sanno il governo turco lo sa il governo greco lo sa perfettamente il governo italiano e viene consentita perché alla fine sappiamo che anche la il paese italia come dire non disdegna la mano d'opera di questi schiavi sottopagati e pertanto questa è la come dire la farsa della migrazione per quando c'è la succede la tragedia chiaramente bisogna intervenire bisogna cospargersi il capo di cenere ma alla fine in almeno in questo caso siamo di fronte a una prassi consolidata che è del tutto permessa e conosciuta dei governi per esempio dal momento che questa nave era partita dalla turchia cosa sarebbe costato al governo italiano richiamare l'ambasciatore turco per chiedere conto di queste navi che partono illegalmente dalla turchia ci tengo a precisare che la turchia non è la libia e non è la tunisia è un paese membro della nato io peraltro ho vissuto sei anni a istanbul quindi un paese che conosco molto bene e quindi c'è un governo e c'è uno stato di diritto quindi non è credibile che una nave con 100 200 persone e clandestina parta dalle coste turche e nessuno alla vela finché non 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 finisce a naufragare sulle coste italiane quindi effettivamente come dire i governi hanno soprattutto europei ma anche quello turco anche quello libico tutti sono interessati a questa popolazione che noi chiamiamo migranti ma di fatto sono dei laboratori ormai senza diritti strapiantati che vivono in questa questo eterno presente appunto il migrante che uno che parte sembra che non arrivi mai che è una condizione sostanzialmente da appunto legata all'estrema vulnerabilità sul mercato del lavoro che queste persone hanno e quindi la compiacenza ecco dei governi europei di fronte a questo a questo fenomeno e quindi l'ipocrisia del delle due parti di fronte alle stragi che l'idea ti sei fatto tu rispetto a questa strage di cutro sono due chiavi direttura ecco ci sono quelli insomma della sinistra che accusano meloni piante dosi di avere di fatto creato le condizioni affinché non partissero i soccorsi invece c'è il governo di destra dice vabbè ma noi non c'entriamo abbiamo fatto tutto il possibile qual è la verità sono te in questo storico guarda chiaramente bisognerebbe andare ad approfondire le dinamiche però io molto spesso come dire definisco questa un po la pornografia delle conseguenze come ti dicevo segue una nave e parte dalla turchia con 150 200 persone a bordo e attraversa le acque greche per una giornata intera non è possibile che nessuno lo sappia non solo il governo italiano ma il governo greco e il governo turco dopodiché è chiaro che il governo moiloni è sotto pressione per via del della conflittualità che si genera con che luco ng e quindi di fronte a un episodio del genere c'è il rimbalzo delle colpe però voglio far notare anche un altro aspetto perché è apparso appunto sui giornali l'idea di legare il controllo del mare addirittura al ministero della difesa quindi a crosetto e questo corrisponde a un'esigenza che molto presto l'italia in generale l'europa e la nato avranno cioè quella di militarizzare il mediterraneo perché appunto ci sono situazioni come tripoli o come la tunisia che in qualche modo stanno sfuggendo di mano rispetto a quella che è la l'agenda l'agenda europea l'agenda nato pertanto è chiaro che si potrebbe creare un fronte sud all'interno di questo conflitto con la federazione russa anzi di fatto il fronte sud è già aperto in questo momento quindi ecco che quando la meloni va a tripoli a firmare un contratto di 8 miliardi con l'eni con un governo illegittimo che di fatto fa ombrello a milizie cioè a gruppi armati finanziati dall'occidente al fine del saccheggio del petrolio libico è chiaro che questo è un sostegno militare a queste milizie in vista di queste fantomatiche elezioni libiche che si che vorrebbero partenere ma in realtà non vorrebbero far tenere perché poi i libici altrimenti voterebbero saif gheddafi che è dato in testa in tutti i sondaggi in libia ormai da più di un anno e quindi c'è questo gioco elezioni sì e elezioni no in realtà si punta un controllo militare della libia ancora una volta e quindi a controllarne le risorse il petrolio che attualmente non sono sotto il controllo delle autorità di tripoli ma sono sotto il controllo delle legittime autorità libiche quindi del governo che ha ricevuto la fiducia del parlamento che è stato eletto dei libici quindi serve un come dire una nuova ondata colonialista in 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 libia forse una una nuova aggressione magari non della portata di quella che c'è stata nel 2011 ma sappiamo benissimo che la nato i paesi nato stanno armando queste milizie che controllano solo il 20 per cento del territorio libico le stanno armando sappiamo sappiamo da uno scoop realizzato da un coraggiosissimo giornalista libico che qualche settimana fa l'ambasciatrice britannica a tripoli ha incontrato delle milizie e l'argomento della discussione quindi la militarizzazione del mediterraneo verrà vedrà chiaramente l'italia in prima fila e ancora una volta si pretenderà giustificare questa militarizzazione attraverso il contrasto alla migrazione di questo è soltanto il paravento ovviamente i migranti come dire fanno soltanto contorno la vera questione qui è legata alle fonti di approvvigionamento e la libia sappiamo che un paese tormentato proprio per questo motivo perché galleggiano sul petrolio hanno anche importanti risorse di gas e in questo momento non possono permettersi che sia il popolo libico a gestire queste risorse la nato se le deve andare a prendere prendere fisicamente e quindi da qui la militarizzazione del mediterraneo che credo sia stata già annunciata dal dal governo meloni proprio con la scusa di andare a contrastare il fenomeno della migrazione senti michelangelo per un lungo periodo la stampa occidentale ogni giorno proponeva al pubblico dei report sulla libia alimentando il dualismo tra sarraici e il generale aftar poi all'improvviso senza perché senza una vera ragione l'informazione sulla libia completamente sparita nessuno sa più niente né dell'uno né dell'altro ecco ti chiederei due cose qual è la situazione adesso tu puoi spiegarla precisamente dicevi ci sono dei gruppi illegittimi abusivi che tendono il controllo sulle risorse e che fine hanno fatto questi due protagonisti dello scontro libico dopo la fine di ghettano sì dunque sarraj nel 2020 ha lasciato ora c'è un nuovo premier si chiama dabaiba e però è la stessa cosa sostanzialmente quindi questo governo illegittimo che controlla la capitale tripoli e un 20 per cento di territorio quindi tripoli e dintorni la costa della tripolitania questo è il governo che è riconosciuto dalla comunità internazionale ma è un governo che io definisco illegittimo perché a differenza di tutti gli altri governi del mondo non ha ricevuto la fiducia del parlamento che fu votato da dal popolo libico nel nel 2014 haftar haftar qui è un personaggio vittima appunto della propaganda nato e della propaganda della fratellanza musulmana perché in realtà haftar ricopre una carica militare è il comandante dell'esercito nazionale libico l'esercito nazionale libico è stato istituito con voto del parlamento libico nel marzo del 2015 quindi haftar non è quello di là haftar è il comandante in capo dell'esercito di tutti i libici tutti i libici si riconoscono nell'esercito di haftar inclusi i cittadini di tripoli che invocano la liberazione della loro capitale ad opera del loro esercito nazionale libico guidato da haftar quindi quella di haftar è una carica militare quindi sottoposta al ministero della difesa del governo che riceve la fiducia del parlamento che il governo basciaga ma che il governo che non si può insediare a tripoli perché a tripoli ci sono le milizie quindi i quando le governa queste milizie di tripoli queste milizie di tripoli sono dei gruppi armati normalmente come dire vanno per conto loro c'è una regia la c'è la regia della fratellanza musulmana la fratellanza musulmana sappiamo benissimo questa corrente di pensiero politico all'interno dell'islam che in questi ultimi vent'anni appunto si è proposto di come dire trovare un punto di unione tra la religione islamica e la democrazia occidentale il leader a livello internazionale il presidente della turchia erdogan e la fratellanza musulmana è stata diciamo la promessa sposa delle cosiddette rivoluzioni arabe in tunisia in egitto inizialmente in libia è stata la fratellanza musulmana prendere il potere con le buone o con le cattive ora queste milizie sono lì armate dall'occidente proprio per far sì che tripoli la capitale non cada sotto l'esercito nazionale libico e quindi non venga ricondotta sotto il controllo delle legittime autorità votate dal popolo libico noi stiamo finanziando da anni queste milizie con la scusa dei migranti dicendo che noi le finanziamo perché queste fermano la migrazione in realtà tutto il contrario il contrario sono state loro a moltiplicare questa migrazione e soprattutto noi le finanziamo per il saccheggio del petrolio libico perché abbiamo già i dati certi da anni ormai che queste milizie sono responsabili del saccheggio del 40 per cento del petrolio libico che viene ogni anno sottratto alle alle casse dello stato quindi al popolo libico e viene venduto indipendentemente sotto banco attraverso la mafia amaltese attraverso la mafia siciliana attraverso la mafia turca e quindi arriva poi sulle anche sulle nostre coste e sulle coste della turchia noi siamo i due paesi che più ci avvantaggiamo del di questo saccheggio del petrolio libico senti michelangelo se ho ben capito quell'operazione che è servita che ha ucciso gheddafi ha cambiato ha destabilizzato quel paese ha di fatto cambiato l'ordine di influenza in quel paese c'è gheddafi era molto vicino all'italia si dice che insomma sia stato messo lì anche attraverso all'epoca un'operazione coordinata ai nostri servizi di intelligence mentre adesso la voce grossa per conto dei poteri nato in libia la fa la turchia e non più l'italia cioè noi siamo entrati in una guerra per levare un uomo di fatto vicino a noi e metterne uno guidato da erdogan insomma questo abbiamo combinato esattamente precisamente abbiamo fatto questo pensa che lo scambio commerciale tra italia e libia dal 2011 si è ridotto fino a un quarto era intorno ai 20 miliardi nel 2010 2011 oggi è sotto i 5 miliardi quindi da un punto di vista commerciale è stato veramente una debacle una sconfitta sul piano della politica internazionale da cui ci riprenderemo forse tra decenni effettivamente come tu dicevi sappiamo che i paesi nato che inizialmente sono intervenuti sono soprattutto la francia gli stati uniti ma questi avevano interessi geopolitici a che gheddafi cadesse a che gheddafi non fosse in particolare in grado poi di varare la moneta africana e quindi di soppiantare il franco sefane in 14 paesi dell'africa occidentale ma poi da sul terreno è chiaramente stata la turchia a gestire le danze diciamo sia nel momento in cui ha creato questa rete di milizie di fatto sia nel momento in cui tra il 2014 e il 2016 in libia ha fatto la sua comparsa addirittura l'isis niente di meno e l'isis che aveva occupato alcune parti della libia in particolare la città di bengasi e sono stati i libici con il loro sangue a liberare bengasi che nel frattempo era diventato la capitale dell'isis nel nord africa davanti alle nostre coste nessuno della cosiddetta comunità internazionale è intervenuto a soccorrere i libici che erano erano dominati dall'isis ad aiutarli a liberarsi dall'isis però questo è successo i libici hanno liberato bengasi e ora è di fatto la prima città libera di tutta la libia questo da diversi anni la cosa interessante saprai probabilmente io sono stato a bengasi in visita lo scorso novembre è che queste autorità legittime della libia che non possono insediarsi a tripoli per l'opposizione delle milizie ma sono loro che detengono diciamo così da la filologia democratica del voto in in libia sono loro a controllare attualmente tutti i pozzi di petrolio in libia quindi potrebbero essere loro a vendere il petrolio libico ma questo è impedito da una risoluzione delle nazioni unite che impone che il petrolio libico per essere venduto debba essere trasferito a tripoli e venduto dalle altre autorità questo fa sì che a bengasi di fatto stiano annegando nel petrolio perché hanno i polsi lo stanno estraendo ma non lo vendono per non mandarlo a tripoli e per fare per non far sì che le milizie abbiano questa fonte di reddito costante continua e poi loro reinvestono appunto in armi per sparare contro le legittime autorità quindi piuttosto si tengono il petrolio per loro e non lo vendono all'estero questo ha fatto sì che a bengasi un litro di benzina costi 3 centesimi di euro 3 centesimi di euro per un litro di benzina a bengasi e nella libia legittima e ormai libera dalla nato il problema che l'italia e questo te lo dico perché ho parlato anche con esponenti del governo che mi hanno contattato non è possibile non ha la possibilità di comprare questo petrolio perché noi siamo ovviamente all'interno dell'agenda nato in libia e quindi noi riconosciamo questo governo che sta a tripoli anche se questo governo non è votato dai libici è un governo coloniale che secondo le intenzioni della nato avrebbe dovuto controllare i posti di petrolio ma ormai li ha persi quindi noi come italia non abbiamo nessuna ragione per avere a che fare con queste autorità illegittime a tripoli perché i nostri interessi come paese stanno dall'altra parte perché i posti di petrolio stanno dall'altra parte perché lì dove ci sta quella libia che va ricostruita perché è stata distrutta dall'aggressione nato e da un decennio di guerra civile le autorità legittime della libia ci stanno aspettando stanno aspettando gli italiani non soltanto il governo che non si muoverà perché sappiamo che siamo un paese colonia e quindi non abbiamo libertà in tema di politica estera ma stanno aspettando le imprese italiane che questa è la cosa più importante e quindi noi come italiani potremmo dimostrare al nostro governo di essere molto più lungimiranti e coraggiosi e andare direttamente a bengasi e relazionarci con quelle legittime autorità e fare gli affari che oggi non possiamo fare e cercando così di risollevare questa economia italiana in questo momento che sta attraversando chiaramente una crisi drammatica c'è il capogruppo al senato della lega un certo romeo che oggi la sparata grossa di genova sono i sono i russi e putin che ci manda i migranti cioè quale sarebbe il meccanismo attraverso il quale putin perché già dall'estate scorsa il copa sir aveva rilasciato una una informativa in cui si sosteneva che da bengasi partissero dei barconi verso verso l'italia tutto questo è facilmente smentibile perché chi conosca appena un po la realtà in libia sa benissimo che la tratta di esseri umani i centri di detenzione la schiavitù la tratta tutto quanto esiste solo a tripoli e dintorni in tripolitania in quella parte di libia controllata dalle milizie dall'altra parte non ci sono migranti se tieni conto che eh sono settecentomila tutti quelli presenti in libia ora segnalati tra bengasi e l'est della libia ce ne sono alcune migliaia questo ci hanno riferito le eh legittime autorità a bengasi alcune migliaia nell'est contro settecentomila in tripolitania quindi come fanno a partire dall'est non è possibile non è possibile perché non ci sono non sono lì i migranti quindi non possono partire da lì al contrario ci hanno informato che la guardia costiera di bengasi che non è chiaramente la guardia costiera di tripoli e quindi non riceve i fondi dal governo italiano ma continua a eh monitorare costantemente le coste del del resto della libia la tripolitania peraltro è una parte limitata delle coste libiche è soltanto un quinto delle coste di tutta la libia quindi quattro quinti di coste libiche sono eh monitorate da dalle legittime autorità e da lì non parte una barca piuttosto stanno partendo in questi ultimi mesi in questo ultimo anno dall'egitto questi sono imbarcazioni come quella partita dalla dalla turchia di legno che sono perfettamente in grado di raggiungere le coste italiane chiaramente transitano davanti a bengasi per arrivare in italia e molto spesso sono state fermate alle autorità di bengasi anche se nessuno gliel'ha chiesto perché sono di fatto delle delle navi abusive quindi nel momento in cui transitano davanti alle loro navi alle loro acque e le loro coste sono state intercettate e riportate a terra e le persone che erano sulle navi sono state ricondotte oltre confine in egitto da dove sono partite quindi questa è la realtà che poi il copa si che abbia altri interessi e quindi cerchi in tutti i modi di eh eh distribuire una una verità ad uso e consumo questa è un'altra un'altra dinamica. Senti si riflettono in Libia le stesse divisioni che stanno squarciando il mondo cioè c'è un interesse della Russia nell'aumentare l'influenza in quel paese del Nord Africa o anche queste sono fantasie dei medio occidentali? Ma eh chiaramente la Russia eh riconosce le legittime autorità in 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 Libia pertanto non riconosce il governo di Tripoli e si relaziona a livello diplomatico con Benghazi perché eh eh lì stanno le legittime autorità libiche però eh io non trovo che la Libia sia come dire un partner strategico per la Russia a Benghazi per esempio alla Camera di Commercio lamentavano il fatto che sì i russi danno come dire un un appoggio diplomatico ma eh la Libia non è strategica per la federazione russa pertanto non ci sono investimenti russi in Libia in Libia stanno aspettando gli italiani ma il la questione qual è che ehm le armi in dotazione dell'esercito nazionale libico sono ancora quelle che appartenevano al vecchio esercito libico di Gheddafi e quelli erano tutte armi di fabbricazione russa quindi ora oggi l'esercito nazionale libico se vuole far funzionare gli aerei se vuole far far funzionare qualsiasi tipo di equipaggiamento eh eh militare ha bisogno dei tecnici russi questa in qualche modo eh giustifica la presenza di alcune centinaia di eh anche eh soldati mercenari della Wagner che sono lì a scopo privato per come dire chiamati dalle legittime autorità libiche perché la ricostruzione grossolana che si fa in in Europa è che vabbè a Tripoli ci sono gli americani e i turchi e eh di là a Benghazi ci sono i russi no per un momento attenzione che a Benghazi c'è un governo legittimo che quindi ha tutto il diritto e tutta la legittimità per eh chiedere eh aiuti di chiedere supporto sia militare che economico mentre dall'altra parte c'è un governo illegittimo quindi nel momento in cui chiede una forza militare nella fattispecie la Turchia di scendere in campo allora questa si chiama occupazione e questo è il motivo perché la Turchia ha tutti gli interessi a definire a definire quegli altri come dei innegati come appunto dei signori della guerra come dei criminali perché sono loro che stanno commettendo il crimine sono loro che stanno occupando un pezzo di Libia in maniera illegittima quello che io non capisco perché noi in Italia stiamo utilizzando il linguaggio della fratellanza musulmana quando parliamo di Libia e come ti dicevo ho vissuto a in Turchia sei anni parlo il turco so benissimo che i giornalisti italiani di fatto traducono dal turco quando parlano di Libia quindi ecco questo è uno dei dei delle grandi domande senza risposta dei nostri tempi ecco uno degli attori geopolitici più difficili da inquadrare in questo periodo è proprio la Turchia di Erdogan se da un lato sembra ogni tanto smarcarsi dal potere americano dall'altro gioca su più tavoli con una certa spregiudicatezza cioè quali sono i veri alleati i veri obiettivi della Turchia di Erdogan sì ma bisogna capire da dove arriva Erdogan e dove vuole arrivare io appunto ho avuto questa diciamo fortuna di vivere in Turchia tra il 2008 e il 2015 quindi Erdogan l'ho visto crescere in qualche modo sotto i miei occhi perché al tempo era semplicemente il primo ministro di un governo il suo partito era da poco andato al potere ma si trovava all'interno di un ordinamento molto preciso la costituzione turca uscita da Turchia negli anni 20 molto rigida diciamo così Erdogan però ha un'altra un'altra idea per la Turchia non condivide il fatto che la Turchia debba essere un paese occidentale quindi legato all'Unione Europea legato alla Nato piuttosto la vede come una potenza locale eh che ha ampie possibilità di espansione in Medio Oriente e anche verso l'Asia però ha ereditato questa situazione cioè l'appartenenza alla Nato e anche eh il fatto che la Turchia aveva eh fatto richiesta di adesione all'Unione Europea e lui non mette in discussione questi trattati internazionali anzi li usa proprio in vantaggio quindi quando gli fa comodo invocare la Nato ecco che la Turchia è un membro della Nato quando invece la la Nato è una camicia di forza se la toglie semplicemente e aspetta che qualcuno reclami magari da dalla Svezia o dall'Olando da chissà dove ma lui eh sa benissimo che in qualche modo tiene sotto scacco e sotto ricatto anche l'Europa attraverso le comunità turche eh che abitano soprattutto nel nel nord Europa eh di conseguenza eh per esempio c'è un quando sono stato a l'anno scorso in Turchia eh il maggio scorso gli amici turchi mi hanno raccontato di un proverbio che non conoscevo un proverbio turco che dice eh quando due slavi litigano eh è meglio non mettersi in mezzo altrimenti sei tu a diventare il colpevole quindi questo spiega un attimo per esempio a livello internazionale quello che ha scelto di fare la politica eh la la Turchia rispetto al conflitto in Ucraina cioè quello di eh come dire starsene il più lontano possibile e soprattutto fare da eh catena di congiunzione eh sotterranea tra l'economia della federazione russa e quella europea perché sappiamo che ci sono sanzioni sappiamo che ci sono tutte le difficoltà del caso ma sappiamo benissimo che gran parte dell'import export dell'Italia e di altri paesi europei con la federazione russa oggi sta passando attraverso la Turchia e questo sta eh portando nelle casse turche una quantità di soldi enorme in parte la stessa cosa succede anche con con la Libia anche lì la Turchia ha eh cercato di imporre il modello che aveva imposto in Siria cioè eh gruppi armati per il controllo dei posti di petrolio e per il controllo delle risorse in Libia in Libia gli sta andando male chiaramente ehm come l'esercito nazionale libico non ha rapporti con la Turchia perché sanno benissimo che sono loro responsabili insieme al Qatar altro importantissimo attore in Libia di queste milizie di quando c'era l'ISIS della presenza dell'ISIS sono stati loro a finanziare questi questi tentativi armati di eh occupazione del 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 paese libico eh pertanto il la Turchia in questo momento ha bisogno anche in Libia di trovare una via di uscita perché eh questo modello basato sulle milizie ormai sembra arrivare arrivato un po' al termine perché appunto i posti di petrolio ormai sono fuori dal controllo delle milizie ormai da almeno due tre anni e quindi non c'è possibilità di finanziare questa macchina e questa è la grande speranza dei libici cioè che molto presto queste milizie vengano smantellate e che quindi le legittime autorità possono prendere definitivamente possesso di tutto il territorio libico se non che se non che come ben sappiamo è arrivata la Meloni che ha portato otto miliardi a Tripoli che sono eh chiaramente denaro fresco per queste milizie poi io non capisco come la Meloni possa pensare di fermare l'immigrazione se va a finanziare proprio quelle che sono le centrali del traffico di esseri umani quindi questo è un po' l'ipocrisia che andrebbe al più presto squarciata in Italia per tirare il dibattito italiano sulla migrazione fuori dalle sacche in cui si ritrova da molti anni. Grazie Michelangelo per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. Eri amici di Visione TV si conclude qui questa nostra intervista, grazie per averci seguito anche eh oggi, se apprezzate il nostro lavoro sostenetelo donando i numeri che la Regia ha mandato in sovraimpressione, entrate a far parte della comunità di Visione TV abbonandovi sul nostro sito www.visionedv.it per rimanere in collegamento con me, iscrivetevi sul nostro canale Telegram. Grazie a tutti voi e una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.